Ci sono cristiani luminosi che cercano di servire il Signore e altri che conducono una vita di peccato e usano parole oscene, vulgarie e mondane, bacque, ipocrite. L'ho detto Papa Francesco celebrando la messa alla Casa Santa Marta. Seguendo la traccia degli scritti di San Paolo, il Pontefice ha chiarito che le persone si riconoscono dalle parole che pronunciano e ha messo in guardia dalle parole vuote, lontane dall'esempio di Gesù e da quei cristiani che non sono né luminosi né bui. Sono i cristiani del grigio. E questi cristiani del grigio una volta stanno di questa parte, un'altra di quella. La gente di questi dicono ma questa persona sta bene con Dio o col diavolo? Sempre nel grigio. Sono i tiepidi. Non sono né luminosi né oscuri. E questi Dio non li ama. Nell'Apocalissi, il Signore a questi cristiani del grigio gli dice Ma tu non sei né caldo né freddo. Magari fossi caldo o freddo. Ma perché sei tiepido, così del grigio. Sto per vomitarti della mia bocca. E il Signore è forte con i cristiani del grigio. Ma io sono cristiano ma senza esagerare, dicono. E fanno tanto male. Perché la sua testimonianza cristiana è una testimonianza che alla fine semina confusione, semina una testimonianza negativa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti